Hey Kooj, ben ritrovati da vostro androni in questo nuovo episodio di Nazionale Eleven Strikers Io leggo tutti i vostri commenti e quindi vi ringrazio per tutti i consigli che mi date Però oggi c'è la selezione All Stars, questa è una bella squadra Questa se mi permetto di reclutare i giocatori da questa squadra Cosa che dovrebbe essere perché penso che siano comunque sia giocatori singoli Di altre squadre, comunque sia del campionato mondiale Dovrei poterli reclutare Quindi appena finisce la partita vedrò se reclutare qualcuno Ed ecco il calcio d'inizio, bravo, oh bella questa La musica è fantastica, la musica, la host Perché si chiama host Ah, Macrobingo, bravo Robbingo, bravo E vabbè Robbingo, non ti avvicinare Robbingo subito C'è anche Paolo, c'è Torres Vediamo se Torres è buono o lo recluto Perché io in genere recluto giocatori che più mi piacciono Però qui devo reclutare giocatori che comunque sia Sono forti e non quelli che piacciono a me È questa la verità su questo gioco Vabbè Paolo ti avvicini, ti avvicini, ma tanto è inutile Se non hai il tiro pronto è inutile che ti avvicini Vediamo un po', sopra c'è C'è Torch Ok Dai iniziamo a pressarli Oh Paolo Paolo Niente Da dietro è impossibile fargli fallo eh E spada micidiale, è arrivato mo' lui Stai buonetto, stai Paolo Stati a vedere Stati a vedere Con quale voce me lo dici Eccolo Grande nero Per un attimo Ho assolato freddo Ah Paolo ancora tu Basta Paolo va bene che sei italiano Però mostrati il buono Preciso, preciso Non mi ferma nessuno Ah Vai Urlalo No, scarica stellare Urla cavolo Il tocchiatore se non sbaglio è Renato Novara Urlalo, urlalo proprio Ce l'hai la voce cavolo Primo gol della partita Sai perché con quella voce la bambino cavolo Renato Novara è un tocchiatore Che fa paura Urla Perché il direttore del doppiaggio ti dice Fai questo tipo di voce Ma fino a un certo punto E vabbè qui Con lui non lo so però Se facciamo gol Perché C'è Torres Che blocca il tiro Ianguru Mano di luce X Eh vabbè col tiro di Torres Con la tecnica di Torres è ovvio che blocchi la palla No Rimarrete di ghiaccio Perché 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 tira Sean Perché tira Sean Eccolo Quindi ora rimarrà di ghiaccio sicuro Dai dai Stavo pensando di prendere Sean Stavo pensando di prendere Sean Dell'Inazuma Giopan Ma Vediamo un po' No Oh Perché mi piace Lo Sean cattivo Che abbiamo qui Per quello è bello Se no È impenetrabile Aia Ah no 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 Volevo passare da tutt'altra parte Volevo passare da tutt'altra parte Cosa Tiro roteante fai Ah no Colpo a spirale Colpo a spirale Non ho mai visto un tiro del genere Beh Scusatemi Ma dal loro metà campo Da vicino all'area Deve arrivare qua giù Ma dai Cosa volete fare Da quella Da quella distanza È impossibile A meno che Edore è un tiro lungo Certo Ma non lo è Goker non ha ancora caricato La sua mossa difensiva Questa volta che lo prendevo L'unica volta che riuscivo a prendere Un giocatore Alle spalle Che fa lui Tira Dai Ce la facciamo stavolta È molto vicino Mamma mia nero Cos'è nero Cosa Cosa non è Ma c'è qualcun altro Ecco c'è lui C'è No Edgar C'è Scalibur C'è Scalibur Edgar Ah Fa Colpo del paladino Fa Un colpo veramente micidiale Perché Quando non ho più punti Eh vabbè Sono riusciti a pareggiare i conti La vittoria sarà nostra Uffa Calcio d'inizio Hanno pareggiato i conti E mo li pareggiamo anche noi Cioè noi mo li facciamo Uno di più facciamo Non è che li pareggiamo Andiamo avanti Il primo tempo è quasi Vai Difesa Non si passa Non si passa Eccolo Marco Balsarotti Mamma mia che voce La voce di Batman Batman Dove vai Dove vai Ma quando Quando presa Quando Che non ti stava neanche vicino Ah Che seccatura Che seccatura Non si può andare avanti Così No 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 Vai Da questa distanza Deve essere gol per forza Però Ci sono dei giocatori in difesa Che potrebbero bloccare la palla Non ci sono Allora è gol sicuro Ti odio Ti odio Rococo Ti odio E non ti odio più Invece Gol Mamma mia Stupendo Ah La selezione Questo è un picchiaduro Mascherato da calcio E' questa la verità Come Mario Tennis Mario Tennis è un picchiaduro Mascherato da Mario Tennis Io passo la palla Ovviamente lui Chi se ne frega La palla anche Stainvolo Ti blocco lo stesso Perché il gioco dice di sì La difesa è impeccabile Ma siamo a tempi di recupero Se riuscisse a rubare palla Potrei farlo Un tiro Ma sei serio Non ho mai visto un tiro Del genere Ma sei serio E vabbè Dai che fede il primo tempo Su Ma chi è che dice che noia Bene Siamo pronti a continuare Ora Ho dato a Nero Una caramella Per la presa Un integratore di presa Una cosa del genere Così para tutto Tanto per renderlo Un pochino OP Solo per questo Porca miseria Non mi ha girato in tempo Ma cosa Mirate Zawardo Tokiwo Tomare Tokiwo Mukides Giorgio mi ha reso Una persona peggiore Per favore Non mi Cosa vuoi fare Strike Samba Colpo Di Samba Oh Un colpo Veramente Vicidiale Eh guarda Tu guarda Ragazzi ho presa Aura È impossibile Superarmi Vai mandala su Mandala su in alto Bella partita Non c'è nessuno Non importa Non importa Che partita Emozionante Porca Zozza Vai Jack Vai Jack Montagna Di roccia Vai Ti voglio bene Jack La difesa La difesa È impeccabile Eccomi Tutto sbagliato Tutto sbagliato Volevo premere Premuto uno Volevo passarla In teoria Però Mi sono un attimo Confuso Dov'è Ma Basta Premo A Non sto premendo Meno Proprio quando è brutto Quando ti fregano Così anche nella vita vera Ti metti a piangere No Oh Meno male che l'ho fatto Meno male che l'ho fatto Già stavo Già stavo in pena Ma dai Ma quello Quello è un fallo Bello e buono Quello Quello è un fallo Bello e buono Oh bella questa Questa è davvero bella Ottimo Cosa tocca a te Hiroto Dai però Xavier pure tu No tranquilli Tranquilli Non sono carico Vai Il loro portiere Ha avuto tutto il tempo Di recuperare i punti Per fare Mano spirituale Modello spirituale Come si chiama Supremo Beh La forza riguarda L'anime in giapponese È un po' difficile Ricordarsi i nomi italiani Eccolo qua Vai così La difesa è impenetrabile Vabbè Vabbè robbio che mi avesse Fermato Colpo del paladino Ah Dai pariamolo E Un colpo veramente micidiale Stati a vedere Partiera Temporale Parata il portiera Imbattibile Buono Buono Ma no Difesa Vai Forza Vediamo Ah Gli animi si stanno scaldando Uffa Il portiere L'ha parata Ehi Dila Ecco Oh Oh Che sollievo Che sollievo Non ho mai visto Un tiro dal genere Mamma mia Che paura Che ho avuto Per un attimo Eh vabbè Parata il portiere Imbattibile Forza Forza mano Suprema Allora 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 Ce l'abbiamo Ai 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 Calcio d'inizio Il secondo tempo E agli sgoccioli Potremmo dover andare Ai tempi supplementari Vediamo 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 se andiamo A tempi supplementari Chesteros Junior Non ci andiamo 40 30 Ah bene Ma io asciaccoci Dopo al limite Oh Ah vabbè Perfetto Perfetto Penso che l'audio Stia bene Comunque No La selezione All stars Dai calcio D'inizio Sì Vedo che raggiunge Abbastanza Deci E' bello Quindi Però Oh Stavamo due pari 4 a 2 Con un attimo Eh vabbè Vedi Eh No 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 Ma non c'è Lascia perdere Lascia perdere Pegaso No Ferrir Ah il lupo Ferrir Che poi Tra ferrir e lupo Se ne passano Di Di cose Eh però Andiamogliela buona Ma paro tutto Paro Un ultimo gol Un ultimo gol Vai Vi voglio umiliare No è impossibile Chester Un'intelligenza Artificiale Leggermente Più Più potente Per Chester Orse C'è schifo Eh già Eh Grazie Grazie Bravo Chester Ora vai a casa E vai a riposare Le corde vocali Per la partita Di domani Oh che bello Andiamo un po' PT aumentati Che è una grandissima cosa Ed ora Dunque Se noi adesso Abbiamo sconfitto La selezione All Star Che era allenata Da David Evans Quale sarà La prossima squadra Ok Contra selezione Incaggiare David Evans E Nella squadra Ok si La Dark Star Ecco Questa è la partita Che più davvero Potrebbe darmi I problemi Vediamo un po' I giocatori Della selezione All Star A cominciare dal portiere Presa C La cosa buona È che ha mano Dello spirito Ma no Più forte il mio Vabbè Intendevo mano suprema Hanno Blasi Che ha preso a C Quindi no Torres Che è meno forte Di Jack Khalil Anche non è Che abbia Ecco Mountain Mi interessa Però Jack È molto più È molto più Ho cambiato La divisa Della squadra La vedremo Nella prossima partita Contro la Dark Star Ragazzi Dark Star Ah Alla ogni modo Questo video Termina qui Io come sempre Vi ringrazio Per averlo seguito Vi ricordo che in descrizione Ci sono sempre i link Per Twitter e Instagram E se ancora non siete iscritti A canali Iscrivetevi A noi Ci vediamo come sempre domani Con un nuovo video Bye bye